E' un'impressione 15-37 l'anno scorso, vediamo su che tempi porterà Davis il Coyote in questo Il Coyote in questo periodo è un'impressione 15-37 l'anno scorso per l'extreme, 1-30 tra il turno il secondo, 2-23, 61 3-5, 4, 4, 4, 4 Grazie a tutti. 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 17.09 l'intermedio del 2009 per lo spin. 17.3... 7.09 l'intermedio del 2011. 7.09 l'intermedio del 2011. 10.09 l'intermedio del 2011. Andiamo a vedere immediatamente il tempo di spinta per l'extremist. Prima discesa per i ragazzi del Port Lane, c'è un 17.32 che l'extremist ha fatto stampare come primo interno. Chi ha il miglior tempo? Il tempo è nuvoloso. Chi ha il miglior tempo? Io. 16.32, 31.22, il tempo sul traguardo all'interno del parco dell'interno. Sto morendo, fra un po' vado a fare la premiazione. Buongiorno! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.